Oggi, domenica 8 agosto, si sono registrati in Abruzzo 120 nuovi casi positivi al Covid-19 di età compresa tra gli 1 e i 96 anni, che hanno portato il totale delle persone colpite dal virus dall'inizio della pandemia a 76.882. 22 nuovi casi in provincia dell'Aquila, 13 in quella di Chieti, più alto è l'attasso di contagio nella provincia di Pescara con 39 casi e in quella di Teramo con 40, con 6 residenti fuori regione o residenza in corso di accertamento. Alto è il numero dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, 2.373 i molecolari e 6.200 gli antigenici per un totale di 8.573 test. Nessun deceduto, il totale resta fermo a 2.515, mentre 10 sono i guariti con la somma salita a 72.545. pertanto gli attualmente positivi sono 1.821, 110 in più nelle ultime 24 ore. Rimane sostanzialmente inalterato il tasso di ospedalizzazione con 43 ricoverati in area medica, uno in più, mentre un solo paziente rimane in terapia intensiva. Gli altri 1.777 positivi sono in regime di isolamento domiciliare. Gli altri 1.777